so ste prove in basket Alusi ci stai o no? taccio allora vediamo la prova in basket e poi chiudiamo la prova in basket è una classica prova di assessment ad esecuzione individuale all'interno della quale il candidato gioca il ruolo di un manager che ha assunto una nuova posizione nel tempo assegnato deve prendere decisioni in merito a problemi contingenti proposti sotto forma di posta in arrivo memo, messaggi, fax organizzare il lavoro, rispondere alla corrispondenza stabilire piani d'azione sono le nostre situazionali utilizzato generalmente su popolazioni di livello manageriale l'in basket mette in luce e consente di valutare dimensioni come analisi e giudizio definizione delle priorità pianificazione delle che a gestione dei rapporti iniziative e decisione a livello dirigenziale vediamo qualche altra informazione tempo fa io feci uscire un video adesso ve lo recupero cioè vi recupero la eccola qua le linee guida in cui vi parlavo delle nuove linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica e vi parlai dell'assessment center paragrafo 2 non è nient'altro che questa la nuova direttiva cioè le prove in basket sono le situazionali per costruire i dirigenti di domani ok con queste prove situazionali riprese ovviamente dal mondo privato e volte a valutare le cosiddette soft skills ci fanno anche master di secondo livello va bene vediamo un po' se qua mi trova proprio la risposta a basket eccolo qua prove individuali scritte aspettate che vi centro il paragrafo Lucy ci stai? tacito a Lucy la prova simula vari aspetti del lavoro manageriale il candidato deve gestire un certo numero di documenti identificando i problemi lo studio del caso i casi gestionali regà sono le situazionali questo significa le prove in basket ok video di due minuti ma andava fatto chiudo la registrazione grazie